Amici 2018 Anticipazioni Amici 2018 Serale 1 puntata, quando inizia è nuova giuria Il serale di Amici 2018 è ormai ai nastri di partenza. . In queste ore gli allievi della scuola di Maria De Filippi che sono stati ammessi alla fase più importante dello show si stanno preparando per affrontare al meglio questa prima sfida della fase serale, che quest'anno si preannuncia completamente rivoluzionato. . Ecco nel dettaglio quando andrà in onda la prima puntata in tv e tutte le novità di questa edizione. . L'atteso serale di Amici 2018, ecco le anticipazioni e quando inizia le anticipazioni ufficiali sul serale di Amici 2018 rivelano che la prima puntata di questa nuova edizione sarà trasmessa sabato 7 aprile in Prime Time su Canale 5. . Anche quest'anno non cambia il giorno di messa in onda del talent show che rimane confermato di sabato sebbene la padrona di casa avesse espresso la sua intenzione di poter andare in onda in un altro giorno della settimana. . Complessivamente dovrebbero essere dieci gli appuntamenti previsti con il nuovo serale di Amici 2018, sospesa, invece, la puntata del sabato pomeriggio che sarà trasmessa solo sabato 7 aprile con una puntata di un'ora dove verrà mostrato al pubblico come i concorrenti si stanno preparando in vista della prima puntata. . Quest'anno il serale di Amici 2018 tornerà in onda in diretta televisiva su Canale 5 e questo permetterà al pubblico da casa di essere nuovamente parte integrante della gara. . A differenza degli anni precedenti, infatti, non ci saranno più i direttori artistici che faranno da scudo agli allievi della scuola e questo permetterà ai concorrenti di assumersi le loro responsabilità. . Il pubblico, quindi, tornerà ad essere sovrano e soprattutto avrà l'ultima parola sulle eliminazioni dei concorrenti dalla gara serale. . 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 Grazie a tutti